Il mio talk di oggi può essere letto in due modi, sia WordPress come nell'introduzione da un punto di vista commerciale, quindi come si può vendere WordPress e perché è facile vendere WordPress, sia dal punto di vista di un commerciale. Perché? Perché per commerciale si intende, copre un vasto gruppo di professionalità, gli account, i marketer, i pubblicitari, i grafici, diciamo che tutto quello che è marketing, promozione, pubblicità e comunicazione può essere definito commerciale. A WordPress ci arrivi sia se lavori nell'online, quindi se sei uno sviluppatore, se sei un web designer, se sei un copy, se nasci così, oppure dal magico mondo dell'offline. E questa è la mia esperienza, perché io personalmente ho iniziato a lavorare nel 2010 e all'epoca noi, passatemi il termine, lo sdombavamo un po' internet, lo sdombavamo un po' il bisogno di essere su Google, perché dicevamo, ok, noi siamo abituati a lavorare su campagne pubblicitarie su strada, con i mailing proprio mandati per posta alle persone, avevamo un parco clienti già nostro, con brochure, volantini, eravamo diciamo della vecchia scuola, quindi la mia esperienza è partita da lì. Fino a quando poi a un certo punto, insomma, ci si evolve, i tempi cambiano, io ho iniziato le prime volte con programmi, insomma, voi adesso magari sorriderete, Notepad, e mi hanno dovuto spiegare sei volte come utilizzarlo, Serif, credo si chiami l'altro, e a un certo punto ho dovuto cedere, ho detto va bene, perché? Perché a prescindere dalla mia professionalità e dal mio campo di appartenenza, anche il copy in realtà è stato un caso, perché io facevo la redattrice, scrivevo progetti di finanziamento, e quindi ho detto, vabbè, ma visto che sai scrivere, perché non mi aiuti a fare questo? E quindi da lì ho studiato e sono diventata un copy, ma il copy non basta, perché la specializzazione nel campo dell'online, pare, non tiri più, per cui, ah, ma tu che fai? Sono un project manager, ma fai siti? No, ci saranno i web designer, ma sei un copy, ma quindi fai anche i siti? No, ma sei questo, ma quindi fai anche i siti? Io devo ammettere che sono arrivata a fare la web designer quasi per esasperazione, perché volevano i siti, va bene, ho detto, ok, sì, io ho cominciato a rispondere, sì, faccio i siti, quindi ti serve? Sì, quindi vendevo il prodotto, poi a un certo punto, io ho questo sito, esattamente, come lo faccio? Ma cos'è un sito? Ma io come lo mando online? Cioè io non sapo neanche, perdonate, che cos'era un hosting? Cioè, ok, va bene, ci mettiamo sotto, prima notepad così, poi ho detto, va bene, non è un prodotto vendibile. E poi sono finita nel magico mondo di Wordpress. Ho detto, va bene, metà del globo praticamente fa siti su questa piattaforma, l'avevo visto da un mio collaboratore, perché io scrivo i test, e mi diceva, guarda, li puoi inserire qui, e quindi il sito era già montato, però inserivo i contenuti e dicevo, beh, non è così difficile, insomma, se ci arrivo pure io, che non sapevo neanche cliccare invia, figurati, insomma, fare un sito quanto può essere difficile. Per cui ho detto, va bene, accetto la sfida, io faccio i siti e se li devo fare, li faccio in Wordpress. Per cui è un prodotto vendibilissimo al cliente, perché lo conosce, la parola Wordpress l'ha sentita chiunque, ed è perfetto per me, perché se io sono le prime armi e devo cominciare e devo vendere, Wordpress è una piattaforma che mi permette di farlo, e quindi è il punto di incontro perfetto tra me, che sono il professionista, che si reinventa, o che magari già lo fa perché vale anche per i web designer che sono nati tali, e il cliente, perché la fortuna di Wordpress rispetto a tutte le altre piattaforme, per me che sono commerciale, è che io posso dire, io ti consegno un prodotto chiave in mano, io ti faccio un sito e ti do la possibilità di gestirtelo da solo. Non si parla male dei competitor, quindi non dirò quale altra piattaforma mi ha reso la vita un inferno, e non sono riuscita a farlo così, ho sempre dovuto rimettere mano io, e non era appetibile poi come lo era Wordpress. Quindi io dico la magica frase, ok, io ti consegno un prodotto funzionante, o un prodotto ottimizzato per il telefono e il tablet e il mobile, e che puoi eventualmente anche gestire da solo, tanto non li gestisco mai da soli, continueranno comunque a cercarti, però gli piace la parola chiave in mano, puoi fare tutto tu se vuoi. Qui diciamo che ho riassunto un po' l'iter della trattativa col cliente, e di chi fa il commerciale e vende. Quindi, ok, la prima cosa che fai ovviamente è comprendere l'esigenza del tuo cliente. Io voglio un sito, va bene, adesso si fa sito e social, perché ti devi anche reinventare, non puoi più essere solo un web designer, devi essere un web designer, social marketing, copy, e tutta una serie di cose, ma lo approfondiremo in un altro momento. Quindi va bene, mi serve un sito, bene, ma per fare che? È un sito statico? È un sito dinamico? Devi vendere un prodotto? Non lo devi vendere? Quindi già solo per far capire al cliente che cosa gli serve, ci potete mettere a dieci anni, però diciamo che tu che sei il commerciale e hai interesse a vendere un tuo prodotto, dici ok, secondo me ti serve questo prodotto qui. Perché? Perché se hai una piccola attività, quindi ti dovrai concentrare più su questo, oppure vendi dei prodotti fisici e ti dovrai concentrare più su quello, oppure perché a me semplicemente conviene vendere più quel prodotto lì. Perché ecco, chi lavora nel commerciale è chi vende il prodotto e chi detta soprattutto i tempi e chi plasma le esigenze del cliente secondo le proprie. Cioè, io ho fatto una buona vendita nel momento in cui ho venduto quello che conviene a me, ovviamente rispettando quello che mi è stato chiesto, e quello che mi ha evitato le erogne fondamentalmente. Il primo talk dell'altra sala, Deborah, è stata fantastica, dice sposta l'elefante ed elimina un elemento di disagio. Per me l'elefante è la rogna. Cioè, WordPress mi permette di eliminare le erogne e il mio prodotto deve essere venduto senza erogne, altrimenti io ci ho perso in termini di tempo, in termini di guadagno e in termini di convenienza per me, soprattutto perché io sono un web designer, quindi io non sviluppo. Io ti vendo il bel template, questo è il prodotto che tu avrai, così lo devi avere. Se già mi chiedi, eh ma il colore non mi piace, eh ma questo non si può cambiare, alla quinta domanda che ti hanno fatto, tu hai già perso il tempo, non ha senso. Se ti serve questo vai da uno sviluppatore che lo fa per lavoro e lo farà sicuramente meglio di me. Quindi io comprendo le esigenze, propongo al cliente la soluzione, e lo propongo appunto con il bel template, quindi io ti vendo un prodotto che avrai così, cioè non mi invento niente. Presente una prima bozza, la prima bozza solitamente è composta dalle immagini, da due o tre testi per fargli capire come risulterà, e al cliente deve piacere, sempre per il fatto che non ho il tempo poi di cambiarlo e io devo vendere e chiudere in fretta, e soprattutto la cura dell'estetica e poi la verifica della funzionalità, perché la prima cosa che tu devi notare è la bellezza, deve essere evocativo, deve essere wow, se non è wow ed è solo funzionale non funziona, come se è solo wow e non è funzionale, diciamo così, però per me personalmente l'estetica è la prima cosa. Dopodiché, ecco, consegni il prodotto, va tutto molto bene, e già che ci sei magari consigli, senti ma ti servirebbe anche un social media manager, perché tanto che c'è il sito che fai, come te lo vendi sui social, e magari ti servirebbe anche questo, e magari ti servirebbe anche quello, e insomma lì continui a vendere. Qui ho riassunto, si vedeva più carino dal computer, che cos'è importante per chi lavora nel mio campo, sia come web designer, sia come commerciale. L'attrattività, per me la cosa più importante in assoluto, è che il prodotto sia attraente, bello e piazzabile sul mercato. Questa è la cosa più importante. Dopodiché viene l'estetica, perché se il prodotto è appetibile, poi deve essere bello, deve essere funzionale, perché non ci può essere bellezza senza sostanza, e dopodiché viene il contenuto. Cioè io sono in grado di realizzare un contenuto, dopo aver soddisfatto le prime tre, perché come diceva Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo, e il mio prodotto, quello che io vendo, deve essere bello, bellissimo, meraviglioso. Quindi io vendo la bellezza, e poi funzionalità, contenuto, insomma tutto il resto. Quindi com'è WordPress da un punto di vista commerciale? Perfetto, sia per gli addetti ai lavori, sia per i clienti, sia per chiunque si approccia a WordPress per la prima volta. Grazie. Grazie.